Appuntamento serale di ieri su Cilento Channel con il sindaco di Agropoli Adamo Coppola in cui è tornato a parlare di estate facendo delle considerazioni riguardo le spiagge. Per quanto riguarda il periodo estivo Coppola si è mostrato totalmente aperto a ricevere proposte da tutti sul come affrontarlo. Il sindaco è disposto a recepire le indicazioni che verranno dalla propria città per la futura ripresa e crescita di Agropoli e con la conferenza dei capigruppo faremo fruire le proposte per poterle portare alla discussione del Consiglio Comunale. Noi vorremmo tenere le spiagge aperte, vorrei trovare la miglior soluzione possibile ma sicuramente si dovranno imporre regole cambiando le abitudini. Perderemo un po' di libertà in termini di orari, ci sarà una maggiore rotazione di persone sulle spiagge, probabilmente si dovrà prenotare quando andare. Dovremo rinunciare a stare tutta la giornata a mare, bisogna prepararci a cose di questo tipo. Il sindaco ha anche parlato dei prossimi weekend festivi che ci aspettano, confermando l'organizzazione dei controlli usata per Pasqua anche per il 25 aprile con probabilmente le attività commerciali di nuovo chiuse. Si prospetta una situazione simile anche per il primo maggio. Inoltre, sempre riguardo il 25 aprile, Adamo Coppol ha dichiarato che la celebrazione della festa della liberazione si svolgerà come di consueto però alla sola presenza del sindaco e di rappresentanti di autorità militari e associazioni di volontariato locali.